Una rete super efficiente e super veloce che fornisce prestazioni migliori a costi di investimento più bassi. È la quinta generazione di comunicazioni mobili, nota come 5G, tenuta fuori dall'accordo quadro fra Italia e Cina nell'ambito del progetto di Pechino, nuova via della seta. Il sistema 5G permette connessioni almeno 10 volte superiori a quelle attuali, anche tra più dispositivi simultaneamente e una latenza quasi nulla, cioè la risposta all'invio di un segnale sarà pressoché istantanea. Ad essere collegati non saranno solo le persone, ma tutta una rete di sensori, robot, impianti produttivi, elettrodomestici, droni, vetture senza conducente. La nuova tecnologia avrà un impatto anche a livello militare. Le attrezzature integrate con dispositivi di comunicazione senza satelliti ridurranno i costi delle operazioni militari, facendo risparmiare le risorse per altri settori. Aziende leader sono Huawei, Nokia ed Ericsson, ma il colosso cinese detiene da solo il 30% del mercato rispetto ai concorrenti scandinavi. I dati che transiteranno in 5G saranno raccolti e gestiti dagli operatori telefonici, ma alcuni paesi, come gli Stati Uniti, temono che le aziende possano accedere alle informazioni sensibili delle reti e sono preoccupati dal rischio di achieraggio, malgrado gli standard di sicurezza del 5G siano più elevati. Grazie a tutti.